L'hub vaccinale del Palacossiga torna a riempirsi dopo settimane di stasi. Le lunghe file di questa mattina ricordano quelle dell'apertura di qualche mese fa. Dalle prime ore del mattino diverse persone sono in fila per ricevere la loro dose. Un trend che va avanti da giorni. All'hub il pienone si è registrato anche il 31 dicembre e il 1 gennaio. Segno che qualcosa nella coscienza dei gelesi, che per mesi sono stati scettici sul vaccino, sta cambiando. Sono le 10 del mattino e l'hub vaccinale del Palacossiga in questo momento è strapieno. Ci sono centinaia di persone, in molti sono in fila per la terza dose, ma molti anche spinti dalla paura e dalla consapevolezza che i contagi stanno crescendo sono qui per fare la prima dose. La media giornaliera delle inoculazioni è salita esponenzialmente nei giorni scorsi, raggiungendo una media totale di circa 700 vaccini giornalieri. Un'inversione di tendenza dettata anche dall'impennata di contagi che sta investendo la città da settimane. Solo nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati 197 nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare, a fronte di 35 guariti. La curva complessiva va verso i 1700 contagiati, attualmente sono 1688. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria, due invece sono stati dimessi. Ma la gente sta cambiando approccio, come confermano gli stessi medici vaccinatori. Penso che sia diventata adesso consapevolezza perché ci sono tante persone infette e quindi ognuno si cerca di proteggersi. Anche perché è chiaro che con la terza dose la percentuale di ammalarsi, di finire in ospedale di rinanimazione è bassissima. Per cui la gente è coscia di questo, è cosciente di questo, per cui giustamente si viene a vaccinare. Adesso l'organizzazione sta migliorando sempre di più, siamo sempre più medici che lavoriamo, speriamo che non fare aspettare molto i gelesi che vengono a vaccinarsi e speriamo soprattutto che si vaccinino tutti. Perché è l'unica possibilità che abbiamo di condurre una vita normale. Consapevolezza ma anche paura di contagiarsi e poi finire in ospedale. I dati sui ricoveri infatti parlano chiaro, la quasi totalità degli ospedalizzati con conseguenze gravi non è vaccinata ed è proprio questa statistica che sta facendo cambiare idea anche ai più scettici. Io penso che sia un segnale di paura. Il segnale di paura viene dato dai numeri e dai dati che abbiamo dallo SPEM, dall'AST. Praticamente succede che c'è un aumento dei casi, la gente corre alla vaccinazione capendo finalmente che la vaccinazione è l'unica strada perseguibile. La nuova variante dà una sintomatologia piuttosto blanda ma dà una diffusione del virus. Se la gente quando si vede positiva, quando sente della positività può ricorrere ai ripari e il riparo unico che abbiamo è la vaccinazione oltre al distanziamento e alla mascherina. Eppure sono ancora poche le prime dosi rispetto ai tanti che si stanno sottoponendo al secondo o al terzo richiamo. Ma sicuramente qualcosa sta cambiando. Ce ne sono ancora pochine in realtà, però ce ne sono. Il movimento di prime dosi che non vedevamo nei giorni e nei mesi precedenti adesso si mettono in evidenza. Scarse ma ci sono.